Vivi la festa più importante dell'anno nella tua lapdance preferita. Venerdì 31 dicembre, super ospite, Malena e l'animazione femminile da tutto il mondo con i loro spettacoli per tutta la notte. Apriamo dalle 23, ingresso 40 euro, compresa una consumazione. A mezzanotte bollicine per tutti. Casalecchio di Reno, Bologna, via Bazzanese 95 terzo. Info 331 20 86 855. Carosello, he's gonna dance!